Fuori secondo, inizio terzo lavoro. La chi droll! La chi droll! Doa schicke! Schicke! La chi droll, la chi droll! Ja, ma ti garmi. Adersi! Carci dratti romp! Crushita, lakka �que! Rek da nage opke! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no devo dire la verità, anche qui due brave campionesse